inizio la ricetta pulendo il pesce stacco la testa tirandola verso la coda in questo modo verranno via anche le interiore inizialmente metto le alici in una ciotola piena d'acqua fredda e poi le lavo accuratamente sotto l'acqua corrente elimino delicatamente la lisca e apro al libro le alici le posiziono in un colapasta fatto questo preparo il necessario per la frittura in un'ampia padella metto a riscaldare a fiamma medio bassa abbondante olio di semi in una ciotola sbatto inizialmente due uova con un pizzico di sale e un po' di formaggio tenete a disposizione una o due uova in più perché potrebbero servire io ne ho usate complessivamente tre in un'altra ciotola verso della farina preparo anche un vassoio rivestito con carta assorbente ora che ho tutto pronto procedo con la panatura passo le alici prima nella farina poi nell'uovo ed infine nell'olio che deve essere ben caldo per accertarmi della giusta temperatura bagno la forchetta nell'uovo e la faccio gocciolare nell'olio se sale subito in superficie procedo con la frittura grazie frigo le alici su entrambi i lati e quando sono ben dorate le tolgo facendo gocciolare l'olio in eccesso concludo aggiustando con un po' di sale ebbene amici se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento in fondo al video e ad iscrivervi al nostro canale per ricevere le notifiche delle nostre pubblicazioni dovrete cliccare la campanellina che compare solo dopo aver effettuato l'iscrizione vi aspettiamo numerosi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti